Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video voglio presentarvi la cassetta video story, eccola qua qui si stanno Jesse, Buzz e Woody, Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscosa, qua troviamo Buzz con Woody, Toy Story 2 e Disney Pizza, qua possiamo trovare Toy Story 2 l'ho comprata da tanti anni fa, io sono nel 99, l'ho comprata quando ero piccolo qui ci troviamo Mr. Potato, il cercatore d'oro, adesso se l'apriamo, vediamo la cassetta ci hanno fatto anche il DVD classico, però non è come questo che ho preso a colle ferro dentro era bianco con questi tre qui, è così, perché è l'edizione nuova questa era la cassetta, lo vediamo il prossimo video, ciao